Vabbè dai numeri si vince che giocano meglio quando c'hanno spazio e spazio lo trovano sicuramente più fuori casa che dentro casa. Poi che per me giocano bene, giocano molto sul movimento, gli avanti stanno sempre dentro l'aria e quindi il problema è di non farli arrivare. Vabbè io penso che ci sono anche interessi di soldi, è normale che puoi vendere Benalì o Zampano perché sono giocatori che hanno fatto qualche film, è più difficile vendere qualcuno che ha giocato poco o non ha giocato. E sul resto, ripeto, di solito le squadre è giusto che le fanno società e è anche giusto che si confrontano con un allenatore. Poi lui ha detto che abbiamo preso giocatori che hanno delle caratteristiche che cercavo io e quindi è tutto a posto. Vabbè io spero che riusciamo a migliorare, io ripeto il nostro primo difetto è questo, che il giocatore vuole palla sul piede e poi comincia a giocare. E per me poi è tardi. Se non ci proponiamo, se non andiamo dentro spazi per ricevere in corsa è difficile arrivare. Non abbiamo mai visto in campo Macini, da cosa dipende? Ma per me dovrebbe giocare mezzo sinistro dove attualmente c'è Brugman. Poi è difficile saltarlo, però penso che prima o dopo le farà, anche se in allenamento non sta sempre molto attento, però ha delle buone qualità. Lo vede in crescita Brugman, mister, ultimamente? No. No? No. Neanche lievemente? No. Cioè che cosa vuole dare da Brugman? Che cosa si aspetta? Che fa scorrere gioco. Quindi con più fluidità di manovra. Che costruisce gioco. La partecipazione mercoledì all'incontro con i 5 Stelle, c'è qualcosa che ha dato fastidio o tutto ok? Non lo so, io non seguo quello che dicono gli altri, ripeto concetto che io penso che non è un voto segreto, uno si può schierare anche pubblicamente. la partecipazione mercoledì, ripeto concetto, le dottura mercoledì all'incontro con i 5 Stelle. Grazie. Grazie. Grazie.